Anche io perché stare in Sardegna per me è la pace, è serenità ed è meraviglioso perché questa per me è una terra magica e oggi è la festa dello Spirito Santo qui a Torralba e io sono onorata di essere qui insieme a voi! Riverai fissando tutto nel vuoto dove avrai proiettato un ricordo solo di noi sarei sconvolto abbastanza da credere che sia reale e non sia un'immagine! Le nostre menti tra il po' già inventano cose che agli occhi reali sembrano ma quando vai per toccarle famiscono e torneranno perché ci asferrano! Riverai fissando tutto nel vuoto Riverai per quella volta sul treno Riverai per qualche fase di prese Riverai per la vita 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 per Di talvolta inventano, cose che agli occhi reali sembrano, quando le rottane franiscono e torneranno per me. Ci aspettano, riderai, con me riderai.